Negli ultimi giorni non si sta parlando altro. Cosa dicono gli autori ai vipponi in confessionale? Dopo la diretta di Mediaset Extra del GF VIP, ieri sera ne abbiamo la conferma. In questi mesi è esplosa la polemica dei copioni e dei teatrini organizzati sia dall'esterno sia dalla guida, interna degli autori. Come puntualizzato anche altre volte. Occorre specificare che il reality è comunque uno show televisivo nel quale gli autori fanno il loro mestiere. Non esiste di fatto un copione, ma certamente si invitano i vipponi ad interagire tra loro, a creare dinamiche. Si cerca di dare al pubblico ciò che desidera. Seguire un copione ad arte sarebbe una cosa molto lontana dal GF VIP proprio perché è un reality. Perciò gli spettatori hanno sempre le antenne dritte quando intravedono nei vipponi atteggiamenti forzati. Ieri però arriva la conferma che gli autori forse fanno molto di più. Un vippone esce dal confessionale e spiffera tutto quello che gli è appena stato detto, creando un gran caos nella casa. Abbiamo capito che Baru non tiene un cece in bocca e ai fan piace molto. Si crea così il fandom delle bimbe di Baru e persino Soleil Sorge in casa si dichiara entusiasta del suo ingresso. Finalmente un po' di ironia e un po' di trash per gli spettatori. Ieri Baru ne ha combinata un'altra e uscendo dal confessionale molto infastidito ha detto Se mi devono censurare, cosa mi hanno chiamato a fare? Me ne vado! Lo sfogo del vippone in un attimo diventa il trend topic sui social. Dalle parole di sfogo di Baru così spontanee si capisce chiaramente cosa gli autori hanno detto di fare e non fare. Anche il giorno prima Baru era esploso, vogliono che faccio qualcosa con qualcuna, che noia. Viva la schiettezza di Baru e intanto le sue quotazioni salgono alle stelle.